Buongiorno, nuovo video per la serie Affitti Brevi in 30 giorni. Oggi parliamo, probabilmente ancora una volta, perché è un tema che comunque è abbastanza ricorrente, ne abbiamo parlato nei vantaggi e negli svantaggi di questo business, insomma è un tema fulcro, ovvero quello della fiscalità. Ovvero parleremo del come e perché, quindi più nello specifico magari rispetto ad altri video, si può operare senza partita IVA in maniera 100% legale all'interno del mondo degli affitti brevi in Italia. Quindi rispondiamo una volta per tutte alla fatidica domanda, si può fare questo business senza partita IVA? Assolutamente sì, è probabilmente o praticamente l'unico business che si può fare in maniera legale senza partita IVA, perché ad esempio se voi volete avviare un e-commerce in dropshipping o in qualsiasi altra metodologia, avete bisogno di una partita IVA prima ancora di pubblicare il vostro e-commerce, se volete fare un profilo OnlyFans, avete bisogno di una partita IVA, insomma qualsiasi business voi vogliate fare, anche Amazon FBA avete bisogno di una partita IVA. Partiamo con una premessa, l'affitto breve può essere gestito in diverse metodologie, quindi in forma non imprenditoriale, in forma imprenditoriale, poi nella forma imprenditoriale troviamo vari sbocchi, e anche nella forma non imprenditoriale troviamo varie declinazioni. Ad esempio nella forma non imprenditoriale abbiamo la locazione turistica, o la casa fitto vacanze in forma non imprenditoriale, piuttosto che la formula del bed and breakfast. Mentre nella forma imprenditoriale abbiamo la locazione turistica imprenditoriale, la casa fitto vacanze in forma imprenditoriale, l'affitta camere, eccetera eccetera eccetera. Quindi è un argomento abbastanza complesso, che spieghiamo in maniera molto minuziosa e precisa all'interno del nostro percorso B&B Academy, che è il corso più venduto d'Europa, ma in questo video vogliamo fare un po' di chiarezza su dei principi base, di maniera tale che possiate avere quantomeno un'infarinatura per capire come funziona la fiscalità in questo business. Infatti al di là della modalità con la quale posso operare io, all'interno della nostra community, composta da oltre 4.000 studenti, abbiamo chi opera come persona fisica in forma non imprenditoriale, chi ha una partita IVA forfettaria, chi ha una partita IVA ordinaria, chi ha una SRL, insomma chi più ne ha più ne metta, è veramente variegato il portfolio di possibilità che si hanno all'interno di questo business. Ce n'è per tutti i gusti. Però c'è una grossa distinzione da fare, ovvero quella tra forma appunto imprenditoriale e non imprenditoriale. Di base entrambe le formule possono lavorare senza particolari problemi, quindi possono affittare l'immobile su Airbnb, ricevere prenotazioni senza, ripeto, particolari limiti. Ciò che poi cambia è che principalmente nella forma imprenditoriale possiamo offrire tutta una serie di servizi extra, cosa che nella forma non imprenditoriale non possiamo fare. Quindi nella forma non imprenditoriale io non posso offrire il servizio navetta, non posso chiamare uno chef privato a casa se l'ospite mi chiede di farlo, può farlo in autonomia, in forma non imprenditoriale, lui può chiamare uno chef e farlo venire a casa, ma io non posso offrire un listino prezzi dicendo guarda hai il servizio di massaggiatrice, hai il servizio di chef a domicilio, hai il servizio navetta, perché opera in forma non imprenditoriale. Se invece opera in forma imprenditoriale, bene, quell'immobile invece può usufruire di tutta questa serie di servizi che non sono obbligatori ma sono facoltativi, quindi tu puoi avere la facoltà di offrire o meno questi servizi in base alla tua volontà. Quindi anche potenzialmente in 5 immobili puoi offrire questo servizio, in altre tanti puoi non offrirlo, è una tua scelta. Così come il servizio di pulizia intermedia durante il soggiorno, quindi tu in forma non imprenditoriale puoi pulire prima che arriva l'ospite e dopo che l'ospite se ne va, quindi tra un soggiorno e l'altro, in parole povere, mentre con la forma imprenditoriale puoi offrire anche un servizio di pulizia giornaliero, quindi tutti i giorni una persona può andare a pulire, infrasettimanale, insomma, quando e come vuoi tu, o anche semplicemente su richiesta a pagamento. Ciò significa che puoi dire all'ospite, guarda ogni volta che tu vuoi una pulizia paghi 50 euro, io ti mando la persona. In forma imprenditoriale questa cosa puoi farla, in forma non imprenditoriale non puoi farla. Onestamente non è un grandissimo svantaggio per chi opera in forma non imprenditoriale, perché è un qualcosa che gli ospiti di norma non chiedono, a meno che non abbiano un soggiorno di un mese, però anche lì noi non possiamo offrire questo servizio, ma lui può chiamare un qualcuno a pulire. Quindi semplicemente se ti chiedono una pulizia intermedia e tu operi in forma non imprenditoriale, gli dici guarda io non posso erogarti questo servizio, ma ti do il numero di telefono dell'impresa di pulizia che pulisce l'immobile, chiamala, paga tu direttamente loro e il problema è risolto. Quindi è un problema, non problema. Ma perché la legge permette di operare in forma non imprenditoriale? Beh, perché la legge, se si opera in forma non imprenditoriale, dice che i guadagni che noi stiamo avendo sono reddito da locazione. Nel senso io sto affittando un immobile, che sia in sublocazione, che sia di proprietà, eccetera, questo immobile io lo sto affittando come privato cittadino. Cosa che posso fare in base alla regione di norma, sino a quattro immobili. Ovvero ci sono regioni che magari hanno un limite di due immobili, alcune hanno un limite di quattro immobili, ma bene o male a livello nazionale la regola è che sino a quattro immobili tu puoi operare in forma non imprenditoriale, quindi come persona fisica. E come persona fisica il reddito che tu stai producendo non è un reddito di impresa, ma è appunto un reddito da locazione. Cioè al pari di Gianfranco, signore pensionato di 70 anni, che ha un immobile di proprietà e lo affitta a degli studenti. Beh, il signor Gianfranco non deve aprirsi la partita IVA per affittare l'immobile a studenti o ad una famiglia. Allo stesso modo noi con gli affitti brevi, sino a quattro immobili, è come se stessimo affittando ad una persona normalissima, piuttosto che a degli studenti. Con il conseguente vantaggio che non dobbiamo aprire partita IVA e possiamo pagare una tassazione agevolata dal 21 al 26%, ovvero la cedolare secca. Quindi è lo stesso principio che si applica ai classici contratti 4 più 4. Con l'unica differenza che con un classico contratto 4 più 4, chiaramente l'inquilino può stare fino ad 8 anni all'interno dell'immobile, con la locazione turistica l'unico limite che abbiamo è di 30 giorni. Quindi se una persona vuole stare più di 30 giorni, a quel punto dobbiamo fare un contratto transitorio, che ci permette comunque di pagare la cedolare secca. Inutile dirvi ovviamente che la maggior parte delle persone che prenotano attraverso le piattaforme di affitto breve come Airbnb e Booking non soggiornano 30 giorni, in media soggiornano 1, 2, 3 giorni, picchi di una settimana, 2, 3 ad esagerare per le località estive, ma difficilmente qualcuno vuole soggiornare più di 30 giorni e comunque noi non siamo obbligati ad accettare prenotazioni superiori a 30 giorni. Ma a parte ciò, praticamente siamo equiparati in tutto e per tutto ad un classico contratto 4 più 4 con i relativi vantaggi che dicevo prima. In primis una tassazione agevolata che in Italia può suonare come molto strana, ma ebbene sì, esiste una tassazione agevolata che come dicevo prima è del 21% per il primo immobile, dal secondo in poi si passa al 26%. Questo se l'attività di affitto breve è intestata alla stessa persona. Se invece ad esempio abbiamo due immobili, uno è intestato a me, uno è intestato a mia madre, a quel punto entrambi gli immobili potranno usufruire della tassazione agevolata del 21%. Quindi l'importante è che l'attività non sia intestata alla stessa persona. Se ci sono più immobili in affitto breve intestati alla stessa persona, a quel punto il primo immobile pagherà il 21%, ma il secondo, il terzo e il quarto pagheranno il 26%. A meno che questi immobili chiaramente non vengano inseriti in una forma imprenditoriale che ha una tassazione diversa. Abbiamo visto precedentemente che ci sono dei limiti nell'operare in forma non imprenditoriale, quindi senza partita IVA, che non inficiano l'efficienza e la funzionalità di questo business. Dall'altra parte poi è bene ricordare che non possiamo in forma non imprenditoriale neanche offrire la colazione, bibite e cibo, né gratis né a pagamento. Però la questione colazione, che può sembrare un grosso limite per alcuni di voi, in realtà è un grande vantaggio. Perché al giorno d'oggi non è più lascio il cornetto e il succo d'arancia, perché c'è quello che vuole il cornetto vegano, c'è quello che vuole il cornetto con la farina di grilli, c'è quello che lo vuole senza lattosio, c'è quello che lo vuole senza glutine, quindi ormai anche offrire la colazione è diventata una rottura di scatole. Quindi il fatto che noi non possiamo offrire una colazione non è uno svantaggio, perché anche se la potessimo offrire, io sconsiglio caldamente di inserire la colazione come servizio, sia in forma imprenditoriale che non. Tornando a noi però, perché le persone decidono di intraprendere un business così redditizio, dove si può guadagnare così tanto denaro, in forma non imprenditoriale, quindi con un limite di quattro case, che comunque ti può portare a guadagnare diverse migliaia di euro al mese, pur essendo appunto una forma non imprenditoriale? Beh, perché spesso questo viene utilizzato come test, come metodologia di prova, ovvero entro in questo business senza partita IVA, vedo come funziona effettivamente, noto che posso guadagnare, che è concreto, che la cosa mi piace, fa il caso mio, dopodiché faccio lo step successivo, dopo aver raggiunto le quattro proprietà, passo alla forma imprenditoriale, ma a quel punto starò già fatturando magari 5-6 mila euro al mese, quindi ne vale effettivamente la pena. E questo è un grandissimo vantaggio, perché come dicevo prima, un qualsiasi altro business prevede l'apertura della partita IVA prima ancora di iniziare, prima ancora di provare, quindi tu devi affrontare una serie di costi e responsabilità nell'aprire la partita IVA e poi devi sperare che questo business effettivamente funzioni. Qua invece è l'esatto opposto, ovvero noi possiamo, senza aprire la partita IVA, verificare che questo business effettivamente funzioni e che sia redditizio e solo dopo, anche a distanza di anni, aprire la partita IVA, cosa che non è obbligatoria, cioè potenzialmente voi potreste anche stare tutta la vita senza partita IVA in maniera 100% legale, guadagnando migliaia di euro al mese. L'importante è rispettare il limite di 4 immobili in forma non imprenditoriale. Anche passare alla partita IVA in realtà poi comunque ha una serie di vantaggi, perché con la partita IVA forfettaria siano delle fortissime agevolazioni che talvolta rendono molto conveniente anche appunto l'apertura di una partita IVA. Lo step successivo a quel punto poi, quando si raggiungono fatturati molto importanti nell'ordine delle decine di migliaia di euro al mese, è quello di aprire una SRL. Infatti abbiamo anche tantissimi studenti Bambi Academy che sono partiti come persone fisiche, sono passate al forfettario e poi successivamente hanno addirittura aperto delle SRL, poiché il loro portfolio è cresciuto in maniera esponenziale. Ma ancora una volta tutto questo non è obbligatorio, è una cosa che è facoltativa, il che è molto raro al giorno d'oggi e soprattutto dipende solo ed esclusivamente dalla vostra volontà. Se voi volete scalare il business e guadagnare sempre di più, chiaramente a un certo punto dovrete strutturarvi, ma se vi accontentate, tra virgolette, di avere un'entrata extra di 2-3-4 mila euro al mese, potete farlo tranquillamente in forma non imprenditoriale senza partita IVA. Detto ciò voglio dirti un'ultima cosa. La cosa importante è iniziare. Non è il momento adesso di preoccuparsi se un giorno aprirò una SRL, se aprirò un forfettario, perché tutte queste considerazioni sono considerazioni che poi vengono naturalmente dal momento in cui stai guadagnando e sei felice dell'attività che stai svolgendo. In questo momento la cosa più importante è semplicemente iniziare da un qualsiasi punto, anche come persona fisica, anche senza partita IVA. A quel punto, quando avrai iniziato a guadagnare, poi ti porrà il problema se vuoi arrivare a guadagnare sempre di più o se ti accontenti di quei 1.000-2.000 euro al mese extra. A questo punto devi solo fare il primo passo, ovvero acquisire il primo immobile, iniziare a guadagnare e capire se hai voglia di continuare questo percorso con altri immobili o fermarti qui. È importante infatti porsi degli obiettivi e perseguirli, tant'è che poi, devo essere onesto, abbiamo fatto diversi sondaggi all'interno della community e più del 90% delle persone che intraprendono questo percorso poi sono contente di continuarlo. Perché? Perché un business tutto sommato semplice che appunto puoi iniziare senza partita IVA, puoi automatizzare in ogni suo aspetto, ti lascia un sacco di tempo libero e sfrutta uno dei motori trainanti dell'economia del nostro paese, ovvero il turismo. A tal proposito, io ti ricordo che cliccando i link che trovi qua in descrizione abbiamo preparato tutta una serie di contenuti gratuiti e qua sul nostro canale YouTube ne trovi altrettanti, oltre a tantissime testimonianze di studenti di successo che come te sono partiti letteralmente da zero in questo business. Quindi per questo video è tutto, io ti invito ad iscriverti al canale innanzitutto, di farmi sapere se ci sono altri temi che vuoi che io tratti qua nei commenti e soprattutto guarda i link che abbiamo lasciato in descrizione perché trovi un sacco di contenuti gratuiti di altissimo valore. Gli stessi contenuti che magari qualche mese o qualche anno fa gli studenti di successo che oggi ci hanno rilasciato testimonianze hanno cliccato a tempo debito. Quindi qualche tempo fa c'erano loro al posto tuo che non sapevano magari se questo business avrebbe fatto al caso loro e oggi hanno cambiato vita grazie a questo business. Ora tocca a te, mi raccomando, clicca il link che trovi in descrizione. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo. Ciao!